Buongiorno amiche, buongiorno amici, come state? Com'è il tempo da voi? Che cielo avete? Qua di nuovo grigio, grigio, nebbioso, noioso, le rondini, le rondini le ho risentite ieri sera, stamattina no, quindi sono ancora in viaggio, diciamo, qua sostano, gradiscono sostare qua, chissà perché, tanti insetti, guardate, tanti, sì, perché, mamma santa come si apre la porta, entra di tutto, ecco, passano, salutano e proseguono, non sono ancora arrivate le nostre stanziali, stanziali stagionali, diciamo, quelle che hanno qua la casetta, ecco, che qualcuno meno male gliela lascia, buongiorno, allora, momento caffettino, momento caffettino lo condividiamo insieme nella mia tazzina di paese, caffettino col mielino, primo sorsetto bollente l'ho già dato, Allora, questa mattina parliamo, lo so, ancora un po' così, ogni tanto mi preoccupo, eh, quando incespico, quando sbrodo l'operato, mi sta venendo l'Alzheimer, morto di Parkinson, insomma, adesso dormo, dormo di impiedi, Oh, che fatica alzarsi, ma non perché sia stanca, perché è bello stare a dormire, mamma mia, a parte il primo anno, due anni, di menopausa, no? In realtà è clamorosa, non avevo 40 anni, poco più di 40 anni, a santa pace mi svegliavo e chi dormiva più? Dormivo poche ore, ma ero più impante comunque, eh, quindi, vabbè, me alzo, cosa devo da fare? No, stressarsi nel letto perché bisogna dormire a tutti i costi? No, dormivo pochissime ore filate, però, all'epoca dormivo, non ce l'avevo ancora, Allora, l'Oreste non c'era ancora, eh, no, non c'era ancora l'Oreste, chi ci avevamo per casa? Non me lo ricordo, o sarà stato Trudi? Comunque, Trudi non ci ha mai rotto le scatole di notte, devo dire, Trudi che è un nome femminile, in realtà, è il nome del nostro gatto, ci avevano detto che era femmina, e noi cercavamo i nomi con la I, con la I perché pare che sia un suono gradevole ai gatti, nei richiami col nome, eh, poi è uscito fuori, che è un maschio, è una femmina, è Trudi, Trudi, vabbè, Camilla, è una piccola, ah, Camilla, è un ballerino russo, Trudi, e Trudi rimaga, ma lui ci ha sempre fatto dormire, devo dire, ma l'Oreste è una peste, a parte che ormai è in modalità buona stagione, dorme fuori, dorme nella sua cucetta, la notte, adesso è qua che dorme vicino a me nella sua poltroncina, che sarebbe la mia poltroncina, la mia poltroncina del lavoro in questa stanza, che è la sala da pranzo in questa casa di paese, che si affaccia sui tetti, vedo l'Umbria, meno male, si vede, è un po' fuscata, ma l'Umbria si vede, mi porta buono vedere l'Umbria, cosa vi devo dire? Eh, non è che ho molto alto da guardare, altrimenti, perché il mare ce l'allontano, quindi il meglio di quello che si può vedere dalle mie finestre si vede. Allora, parliamo di punti, parliamo di nomi di punti, ecco, adesso sto pensando che ho la frangia che mi spiomba sul viso, come è odiosa la frangia, cosa mi sono andata mai a fare, non la volevo, ecco, ho dato una zaffata con il rasoio, e quindi divento già nervosa, beh, io che non ho il cerchietto a portata di mano, ne ho due, ne ho mollati tutti al piano di sopra. Allora, parliamo di punti, parliamo di come possono rendere i punti, come si possono manifestare i vari punti nella maglia, a secondo dei filati e dei colori che noi adoperiamo, ma anche dei calibri, e quindi i nomi dei punti, a volte è difficile capirsi, perché chiamiamo i punti in modo diverso, ecco, e quindi quello che io, ad esempio, ho chiamato, perché poi l'ho copiato, diciamo, da questo manuale, costa singola, o costina singola, ma non mi ricordo, ecco, a dritto, che viene mostrato in questo modo, a dritto, sul manuale che vedete qua davanti, adesso poi devo comparare con altri manuali di punti che ho, di maglia, di veri e propri manuali, ne ho altri due, poi ho altri manuali che raccolgono anche altre tecniche, ma ho un manuale di punti introvabili, di Marie Claire, Marie Claire Idee, un numero speciale che avevo trovato, tra l'altro, in edicola a Castaigandolfo, che non aveva, tra l'altro, il Marie Claire, all'epoca era un trimestrale, mannaggia, sapete che il mio mino non c'è più, ha chiuso l'edicola per questioni di salute, mannaggia, adesso speriamo che la tradicola me la faccia avere il mio Marie Claire, bene, quella guida di Marie Claire, salvo qualche punto descritto con errori, era comoda perché portava sia il grafico, sia lo schema, diciamo, dell'andamento, del punto, del motivo, che la descrizione scritta passo passo, non tutti amano seguire gli schemi, invece chi preferisce seguire passo passo la descrizione di quello che si deve andare a fare riga per riga, ed era, l'ho distrutto, mi si è sfogliato proprio, l'ho distrutto assai, poi ho, ho i due, dedicati alla maglia, pubblicati dalla casa editrice di Mani di Fata, e lì abbiamo appunto, come vi stavo dicendo, c'è un guaio in atto, è stata assorbita, la casa editrice è stata ceduta, insomma, non sapremo, non sappiamo ancora, su cosa possiamo far conto di tutte le pubblicazioni, le buone pubblicazioni di Mani di Fata, in quei due volumi, uno e due, tra l'altro ci sono delle differenze, diciamo, in uno si leggono solo le descrizioni o solo gli schemi, non mi ricordo, ci sono degli erroretti qua e là, capita purtroppo, non è una cosa carina, ma capita, per me è più raro trovare dei grafici malfatti rispetto alle descrizioni, in una descrizione di un punto o di un motivo, basta scambiare una virgola e un punto e virgola, o saltare proprio una parola, un numeretto, che il punto non ci riesce, noi che siamo cresciute con gli spiegoni dei Rakam, dei Mani di Fata, dei Mille Idee, dei Bella, perché anche su Bella c'erano degli esserti dedicati alla maglia, insomma, tutte queste belle riviste vintage dedicato al mondo femminile, ahimè, maschi che volevate fare la maglia ai tempi, dovevate comprare, vabbè, ma non è che vi cascava niente, diciamocelo, via, così com'è, noi se andiamo a prendere una rivista di bricolaggio, dove vediamo i muscoloni, dove vediamo i trapani, le frese, non è che ci viene la barba, a me sì, mi viene la barba, oh mamma santa, come la mia bisnonna, negli stessi identici punti, adesso la lascio crescere, vediamo se mi vengono anche i ricciolini della mia bisnonna, la barba, la peluria della menopausa, santa barba, però è un momento divertente, quando si mette le spiumasse, non so voi, non è rilassante, che si va a cercare, che si sta lì, che si sente il contropia, ma dov'è questo puntino, non lo vedo, non lo vedo, di cosa vi parlo questa mattina, è della vita quella che è, santa pace, finito qua, quindi, dei buoni manuali, allora, possono essere tutti dei buoni manuali, quelli che ci capitano per le mani, però poi magari quello, perché ne hai tanti, non ne basta uno, sì, ne potrebbe bastare anche uno, ma io sono una curiosa, è uno strumento di lavoro, anche perché una guida si può esprimere in un modo, un'altra guida in un altro, e spesso i contenuti non coincidono, abbiamo descrizioni diverse, ma più punti, più motivi, che differenza c'è tra punto e motivo, è un punto emotivo, sì, che viene dal corazon, e c'è una differenza tra un punto, il risultato di alcuni dei movimenti del filo, e una sequenza abbastanza lunga, di cambiamenti, riga per riga, di punti in successione, di punti in successione, danno il motivo, la treccia non è un punto, è un motivo, le losanghe non sono dei punti, il punto losanga è un motivo, ecco, è un risultato estetico, che è la combinazione aggraziata, diciamo, di tutta una sequenza di movimenti del filo, che avviene dopo un certo numero di righe, ecco, la grana di riso, ad esempio, è un punto, come si fa a definire con precisione la differenza tra punti e motivi? Ah, il confine è veramente un po' così fumoso, la maglia, quindi la maglia a rovescio, il punto a rovescio è un punto, il legaccio è un punto, ma sì, più che motivo è un punto, vabbè, poi ci torneremo sopra. Allora, a voi capita che, parlando tra persone che condividono la stessa passione, come in questo caso, scusatemi, la maglia, ecco, che non si capiscono quando parlano di queste cose, perché magari chi l'ha preso attraverso una fonte, quel movimento, quel risultato, lo chiama in un modo, chi l'ha preso attraverso un'altra fonte, lo chiama in tutt'altro, che possono essere due diversi manuali, due diversi canali di YouTube, blog, 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 blu, quella roba lì, tradizioni diverse, ad esempio, il punto legaccio nell'America Latina viene chiamato punto Santa Clara, mi pare, se qualcuno sotto se lo ricorda, lo sa, mi può dare una conferma, ecco, il punto Santa Clara, oppure in Francia viene chiamato punto Mousse, il punto, la maglia, il legaccio, poi ci sono delle differenze fra legaccio di maglia a dritto, legaccio da maglia a rovescio, da successioni di giri a rovescio, di filo che montiamo, sì, c'è differenza, apparentemente, se compare solo quello, solo il risultato di tutta una ripetizione di giri realizzati con la maglia a rovescio e una sequenza di giri in successione realizzati con la sola maglia a dritto danno la maglia a legaccio, noi la isoliamo con un quadratino, il risultato è lo stesso, ma viene indicato il legaccio a rovescio come contorno, diciamo, e separazione di alcuni punti e motivi perché la sequenza a dritto non permetterebbe il movimento del filo per ottenere un dato risultato, quindi ricordarsi delle potenzialità di questa opportunità di realizzare il legaccio a rovescio e non solo il legaccio a dritto, ci sono dei motivi che, ecco, poi ve lo farò vedere, ad esempio, il punto che scelsi per realizzare il vestitino in cashmere di loro piana per Camilla, che è tanto che non glielo vedo addosso, tra l'altro, un vestitino corto, che lei ha voluto molto corto e che permettesse di mostrare il pizzetto di una sottoveste, di alcune sottoveste che aveva la carina come idea, tra l'altro, stava proprio carina, aveva molto legaccio in questo punto, un punto che si rifinisce da sé alla partenza, ecco, e tutto quel legaccio che si vede è un legaccio a rovescio, ma poi ne parleremo di questi punti, e quindi, in questo caso, com'è uscita fuori la cosa della punto sabbia, no? Perché? E la cosa bella è andare a scoprire le cose, sentiamo parlare di punto mus, va bene anche replicare quello che sentiamo, ma capire quello che facciamo, a volte usiamo dei termini che vogliono rendere più esotico, più affascinante quello che andiamo a fare, ma ad esempio, chiamare una sciarpa a maglia legaccio, o chiamarla appunto mus, dipende, spesso questi termini dipendono o da un intento di farlo strano, che poi quello è il risultato, però possono anche appartenere questi termini a delle tradizioni locali, ad esempio, io nomino spesso il tricolcrochet, perché voglio farlo strano, perché voglio farlo esotico, perché francese è più chic, no, perché nella mia zona, in famiglia, la mia nonna, la mia nonna materna, la mia nonna toscana, quella con la quale in realtà io ho cominciato a fare la maglia, non me lo ricordo come lo chiamava, probabilmente semplicemente rovescio e dritto, guarda, non me lo ricordo, perché poi lei mi aveva avviato alla maglia, io ho fatto tanto maglia legaccio con la mia nonna toscana, però poi in realtà la maglia l'ho sviluppata a Spezia, grazie insomma al sostegno, alla vicinanza della nonna materna e sfogliando tutte le riviste che giravano per casa, ma lei, la mia nonna, l'ha sempre chiamato tricol, il far la maglia, così come il crochet, il far d'uncinetto, come mai? Perché nella provincia di La Spezia, in Val di Vara, e la mia nonna, la mia bisnonna, la mia bisnonna, la mia trisnonna, provenivano, ma anche il mio trisnonno, provenivano dalla Val di Vara, pensate un po', e in Val di Vara e in Alta Val di Vara, le anziane, quelle molto più anziane, dimmi, diciamo le persone di due generazioni avanti a me, una generazione avanti a me, anche due, ecco, il far la maglia, il far d'uncinetto, l'hanno sempre chiamato tricol e crochet, e parliamo di persone assai modeste, che non hanno imparato il francese a scuola, quindi questa cosa mi è rimasta, però ecco, la definizione dei punti base, delle tecniche base, invece no, l'hanno sempre chiamata, a meno le persone che ho incontrato, maglia dritto, maglia rovescio, maglia legaccio, la base della maglia, ecco, quindi sono un po', non dico contraria, sono contraria quando si vuol confondere le idee alle persone sull'uso di parole esotiche, quando poi non andiamo a chiarire, non andiamo a indicare qualcosa che è giusto chiamare in quel modo, perché gli corrisponde effettivamente, confondiamo le idee alle persone, siamo sempre lì, Baktus, Pashmina e Keffia, proprio lo scandalo delle nostre community tutte, ecco, dove sono state adottate a sproposito questi termini, l'ho trovata una cosa vergognosa, scandalosa e anche stupida, quando è fatto coscientemente di confondere le idee alle persone, ecco, usare dei termini che non hanno niente a che vedere con quello che si va a mostrare, non è farlo ganso, è farlo confuso, ecco, dare delle informazioni confuse e sbagliate alle persone, e mi dispiace, perché dovrebbe essere, invece, una cosa diversa, non è necessario, insomma, aggiungere, cambiare, insomma, invece di dire, facciamo un bel triangolo e dare magari il nome del triangolo che corrisponde alla forma geometrica corretta, ecco, con quale tecnica, con quale punti, dovrebbe bastare, avanzare, e poi ci aggiungiamo, se è un modello particolare, il nome di fantasia che il designer, il designer generale, la designer, vuole affibbiare, vuole appioppare, vuole donare alla propria confezione, alla propria idea, ed è una cosa, ma utilizzare dei nomi, di capi e di accessori tradizionali di altri paesi, o usare a malo modo l'idea fantasiosa, che ha tutto il suo perché, di un'altra creativa, a proprio uso e consumo, confusionario, ecco, lo trovo assurdo, probabilmente sono cascata dal pelo, quando ho visto quest'usanza generale, nel web, perché sei più brava, no, perché è una questione, di serietà, insomma, quindi cerchiamo, di darci insieme, delle buone informazioni, parliamo di tradizioni, parliamo di tecniche, confrontiamoci anche, ad esempio, non mi tornavano, quando ho iniziato a fare calzini, io ho cominciato, allora, il mio primo calzino, l'ho realizzato in Valdivara, a quante mani, due, quattro, sei, sei, otto, con le mie, ecco, ma mi sa che io ho anche l'altra signora, adesso, due di quelle signore, non ci sono più, due delle mie amiche grandi, della Valdivara, che mi hanno dato la loro lana, che il signore lì, che è arrivato di corsa, mi ha fatto una rocca, poi ve la farò rivedere, che cos'è la rocca, è una forca, una forcella, molto, molto semplice, spartana, che trattiene, una balla, un masto di lana cardata, e che si utilizza per filare, un supporto, il supporto della lana cardata, e poi il fuso, mi hanno regalato, un fuso antico, ho tentato di insegnarmi, a fare i calzini, io ho sempre avuto, questo blocco, nei confronti dei calzini, che è un blocco emotivo, un blocco che va, alla famiglia, i ricordi, a persone che non ci sono più, l'ho sempre visto così difficile, ma perché emotivamente, era difficile, quindi, il mio primo calzino, figlio unico, di madre e vedova, se di esa così, l'ho fatto con loro, poi c'è stato un momento di buio, io non ho mai fatto, ad esempio, le scarpine a Camilla, quelle classiche, le scarpine da bambina, vabbè, quelle che vanno cucite, dalla pianta, fino alla gambale, perché anche lì, non mi venivano proprio, non so perché, c'erano anche lì, compreso il blocco emotivo, il mentale, e quindi, le prime vere calzine, fatte, col piede, il tallone, le ho fatte ai fari dritti, le ho fatte ai fari dritti, anche lì, no, le cuciture, se ci andiamo a pensare, quando noi facciamo la ripresa dei punti, e quindi l'avvicinamento di due parti, si chiudono, e formano un contenitore, in realtà, non dà nessuno spessore diverso, rispetto al movimento, bisogna vedere come viene fatta, ovviamente può essere fatta bene o male, e quindi, le calzine a fari dritti, che si chiudono con la ripresa dei punti, ad esempio laterali, non danno nessuno spessore fastidioso, non si fa altro che far passare il filo, creando una, se è il caso, se il modello lo vuole, una nervatura, che è come quella fatta, lavorando in tondo, se in quei dati punti, cambiamo l'orientamento delle nostre maglie, che ne so, un momento di fessura, di maglia rovescio, in un mare, di maglia rasata, ad esempio, e l'effetto è quello, quindi, questo timore, di non avvicinarsi alle calze, perché, con i ferri circolari, è una bella menata, e questo, sono d'accordo, io non sono una patita, dei ferri circolari, il gioco di ferri scappa da tutte le mani, è vero, è partire con quei ferri circolari, e poi, inseriamo il gioco di ferri, e rimane più facile, quando abbiamo qualche centimetro di lavoro, rimane più facile la gestione del gioco di ferri, i ferri corti, diciamo, quelli con le punte alle due estremità, e quindi, il far calzini, è divertente, lo possiamo fare, con i ferri dritti, non dà effetto cucitura fastidiosa, in nessun punto, se seguiamo bene le indicazioni, tanti ne ho fatti, partendo dall'elastico del gambale, e anche proprio dalla caviglia, direttamente, senza fare un vero e proprio gambale, proseguendo dall'alto, verso la punta, facendo poi la pianta, il tallone, e ricollegandomi all'avvio, quindi alla caviglia, o al tratto di gambale, e viceversa, da dietro, verso il tallone, la pianta, la punta, la parte superiore, e via dicendo, collegandomi, mi sono resa conto, che io ho una difficoltà, nel vedere bene, nel capire, dove riprendere le maglie, lateralmente nel gambale, e lì è nata poi, la mia calza, da trekking, in pizzo, in lana, con lana naturale, da pascolo, lavorata, a tecnica mista, quindi ferri dritti, e ferri circolari, ferri dritti, per quanto riguarda, la parte del piede, ferri circolari, il gambale, e sono orgogliosa, di quel mio modello, ma tanto orgogliosa, l'ho pensato, per la mia scarpa da trekking, che è una scarpa alta, la parte traforata, non si trova, nella pianta, e neanche, nella parte superiore, del piede, si trova, in un tratto, del gambale, che sborsa, anche un po', e poi c'è la parte, dell'elastico, ecco, l'ho voluta, l'ho fatta razionale, ecco la cosa, non l'ho fatta, un po' così, è stato divertente, è stata una bella sfida, e poi ho fatto, dei calzini per bebè, molto semplici, con la punta a stella, che è una delle punte, tipiche, della mia zona, della Val di Vara, e tra l'altro, quel calzino, che si fece, con le mie sciure, con le mie amiche, fu proprio, una punta a stella, una punta, che ha le diminuzioni, intorno, alla punta del piede, e che come nei berrettini, questa diminuzione, a scalare, tutte incolonnate, che formano, delle diagonali, ecco, quel tipo di punta lì, ma non è l'unica punta, che veniva, o viene fatta, dalle mie parti, in quell'occasione, si fece, ci si fece, tante risate, guardate, a volte, c'è le persone anziane, io con loro, guardate, ho una nostalgia, che guarda, oh, e torniamo, a parlare, allora, anche di punti, quindi, il parlarsi, il confrontarsi, dare lo stesso nome, oh, e fa da stimolo, questa cosa qua, no, quello che chiama, che cos'è il punto mus, andiamo a cercare, ah, ma il punto mus, non è altro che il punto legaccio, allora, se noi andiamo a indicare, punto mus, quando facciamo, la maglia legaccio, non diamo, un'informazione errata, utilizziamo un termine, in un'altra lingua, mus, perché, perché forse, non l'ho capito come mai, forse perché è così compatto, perché forma quelle ondine, di solito, quando si danno dei nomi, si danno i nomi che diamo, dovrebbero aiutarci, a ricordare quello che manifesta, un qualcosa, ma, chissà, nelle varie tradizioni, ah, ecco, osservando, ad esempio, queste calzine, mi ricordo, che non mi tornavano, alcuni particolari, io che mettevo, rallentavo, fermavo, non capivo, no, cioè, mi perdevo un qualcosa, capivo che non tornava, non mi tornava, nello stesso modo, e poi ho capito, ascoltando, in altre occasioni, non in quella, insomma, dei tutorial di Natalia, del canale Maglia di Assiolo, ecco lì che a un certo punto, è emersa questa parola, la tecnica, o in mamma, com'è che si chiama, Ipsen, le donne di Ipsen, Ipsen mi pare che si dica, è che è una, un orientare in maniera diversa, il filo, adesso non ricordo, se è una fase del dritto, del rovescio, comunque, quel modo di lavorare, ecco, che mi era sconosciuto, sappiamo che c'è, oh mamma mia, su come si tengono le punte, il filo a sinistra, il filo a destra, la presa così, la presa così, è un mondo, ecco, la maglia tradizionale, poi che si è andata così, a mischiare, visto tutti i movimenti umani, è una ricchezza questa, una ricchezza anche il web, che ci permette di collegarci, con tutto il mondo, di conoscere, di approfondire, quindi, se chiamare punto mus, un fondo, o un particolare, allegaccio, non è sbagliato, è semplicemente utilizzare, un termine in un'altra lingua, ma che corrisponde a quello, abbiamo visto, che chiamare, da qualunque cosa, bactos, pashmina, e cheffia, è dare delle informazioni sbagliate, e qua ci siamo, quindi, la cosa bella, dell'osservare, del chiedere, del confrontarsi, del conoscere, del capire, la differenza, fra, quel modo di tenere i ferri, e quest'altro, l'opportunità di suddividersi, i fili tra un dito e l'altro, quando si lavora più colori, insomma, sono delle belle opportunità, a volte serve proprio, una certa terminologia, perché non c'è la corrispondente, nella nostra lingua, o in altre lingue, quindi si usa quel termine, e a volte ci creiamo solo confusione, oppure, a volte, in un luogo, ecco, si usa un termine completamente diverso, che non è manco sinonimo, per indicare qualcosa, che noi conosciamo, in un modo diverso, e questo è il divertente, dell'andare ad approfondire, e quindi, quando la mia amica Steffi, mi ha detto, ah, quel punto lì, lo chiamo punto, punto, si chiama, si chiama punto sabbia, che lei indicava questo, ora sposto la tazzina, e vi faccio vedere, perché quando abbiamo parlato ieri, non avevo vicino a me, il cardigan, ecco qua, sul, i peli, guardate, in questa casa, fra i miei capelli, i peli dei miei animali, allora, questo è, quello che ho scelto, come punto, per quello che deve essere, il mio cardigan, lo ammollo, a mia nipote, vedete questa costa singola, che ha nel mezzo, non una costa rovescio, ma un effetto di legaccio, ve lo spiego, perché è semplicissimo, questo punto, come si sviluppa, allora, sul manuale, questo è il dritto del punto, in rete, o probabilmente, anche in altri manuali, è il rovescio di questo punto, che viene indicato, come il punto, e viene chiamato, punto sabbia, sono cose buffe, ma è carino incontrarle, quindi, sul manuale, che vedete là dietro, collezioni di punti maglia, della casa editrice, pubblicato dalla casa editrice, il castello, non vi nomino le, le autrici, perché hanno dei nomi stranieri, e io sono una ciofeca, nel pronunciare altre lingue, ecco, questo punto, viene indicato, come punto, costina, singola, e questo è il dritto, del punto, costina, singola, invece, in rete, troviamo, adesso lo apriamo, perché questo è un cardigan, troviamo questo punto, che è il suo rovescio, vedete qua, ecco, troviamo questo punto, come punto sabbia, quindi, il rovescio, di questo, lo troviamo indicato, come punto primario, diciamo, con la possibilità, di manifestarsi, anche nel rovescio, che è questo, secondo altre fonti, ma è un errore, boh, non lo so, è un modo diverso, di indicare, questo modo di lavorare, ecco, però, se uno va a dire, ha fatto il punto sabbia, che chi lo vede, chi lo va a cercare, su quel tipo di manuale, ha un altro punto, che ora vi faccio vedere, chi passa attraverso, probabilmente, anche altre schede punti, o altri manuali, non lo so, perché ancora non sono andata, a cercarlo, sui miei di maglia, ecco, come punto sabbia, viene indicato, il rovescio, del mio punto, scelto per il dritto, che è questo, tra l'altro, vi avevo anche indicato, questo punto, perché, come notate, è bello il rovescio, è interessante, che forma questo rilievo, lo vediamo poi, se lo sdraiamo, il punto, sono, proprio, delle costine bombate, sul rovescio, ecco, per alcuni, il punto sabbia, è questo, a dritto, ecco, per me, il rovescio, di questo dritto, di cui vi faccio una confusione, è questo, che rimane bello piatto, tra l'altro, è vero, sono delle costine, ma è piatta, la lavorazione, vedete un po', si definisce bene, è un punto adatto, sia a scialli, sciarpe, berretti, golf da uomo, e da donna, è un punto, chiamiamolo sportivo, come tutte le coste, ecco, è una costa semplice, vi ripeto, come si ottiene, sul davanti del lavoro, quello che voi vedete, si lavora, le maglie a coste, si lavorano, un dritto, e un rovescio, e sul rovescio, si lavora, tutto al rovescio, quindi, chi dovesse seguire, le indicazioni, per questo punto, come, punto, punto sabbia, ecco, come le trova le indicazioni, che sul ferro del dritto, si dovrà lavorare a rovescio, sul ferro di rovescio, si lavoreranno le coste, un dritto e un rovescio, ecco, e abbiamo scoperto, questa cosa, ora vi faccio vedere, che cosa, in realtà, corrisponde, sul manuale, alla parola, alla definizione, punto sabbia, aiuto, e questa, è la cosa divertente, dell'approfondire, ecco, se tante persone, avesse l'approfondito, veramente, come si deve, la questione, del Bactus, sarebbero, approdate, perché poi, è chiuso da tempo, al canale, della, signora nordica, dove, si scopriva, la storia, di questo Bactus, che in realtà, indica, è il nome, di fantasia, che indica, quel modello, punto, poi le variante, le possiamo fare, ma quello che si è visto, non sono varianti, del lavoro, e della creatività, della, dell'artista, e della, nordica, è, uno stravolgimento, generale, come se Bactus, volesse indicare, scialle, o, chissà che cosa, vabbè, è quella costruzione, allora, su questo manuale, andiamo un po', a vedere il punto sabbia, come, come viene indicato, mannaggia, aspettate, che non voglio farvi vedere, le spiegazioni, allora, vado a vedere, nella pagina principale, eccolo qua, questo è un manuale, veramente interessante, allora, punto, colonnina singola, o costa singola, eccolo lì, è lo 011, come vedete, viene chiamato, in quel modo, abbiamo anche, il punto sabbia, il punto, qui, questa è tutta la sezione, vedete, dedicata, alle evoluzioni, tra dritti, e rovesci, quindi, le varie coste, le varie rilievi, è veramente bellino, guardate, è proprio, proprio, un buon manuale, ora, vi faccio vedere, aspettate, un attimo, che vediamo, nella parte, vediamo un po', dove siamo, dritto e rovescio, devo arrivare, all'inizio del capitolo, o, eccolo qua, e, invece, come descrizione, illustra, come illustra, mi devo avvicinare, perché mi fa buio, o, eccolo qua, mentre qui, come punto sabbia, vediamo, una descrizione, completamente diversa, abbiamo il punto 037, il motivo 037, o 37, ecco, e abbiamo tutta, un'evoluzione diversa, del nostro lavoro, tra l'altro, viene indicato, come semplice, non è semplice, adesso, vi spiego, come è antipatico, per un certo verso, diciamo, non è difficile, nella sua comprensione, si sviluppa, su quattro ferri, è un punto lento, è un punto lento, perché, è un insieme, è una successione, di coppie, con intervalli, di due, di maglie, incrociate, quando ho letto, la spiegazione, di sto punto, non ci ho capito niente, ho detto, eh, cosa, passa qui, passa lì, passa là, mi sono cercata, un tutorial, l'ho trovato, delle maglie incrociate, manco a dirlo, sono prodata, in Natalia, del canale Maglia di Assiolo, e lì, ho visto, e ho capito, e ho detto, ah, ecco, cosa si, cosa vuol dire, perché non l'avevo ancora approcciato, non l'avevo ancora applicato, nessuno delle mie cose, questo, questo punto, questa opportunità, che qui, si manifesta, in un certo modo, ora, vediamo se mi sposto un po', eccolo lì, eccolo lì, e questo, è dato, dalla natura, del filato, questo è, un filato, a più capi, effetto, si chiama, effetto mille fili, quando, non sono particolarmente, intrecciati, tra loro, e io ve l'ho, replicato, questo punto, con due filati, completamente diversi, diverso da questo, per elasticità, e l'altro, adesso vi mostro, perché è diverso, allora, perché faccio questo, perché far di maglia, non vuol dire, necessariamente, realizzare, dei capi finiti, il far di maglia, ecco, la libertà, degli approcci possibili, senza spinte, è, far di maglia, potrebbe, semplicemente, trattarsi, di approfondire, diciamo, oscuriosare, gli effetti, dei vari punti, emotivi, seguendo, un, un manuale, e basta, fare delle campionature, ma poi, cosa ci devi fare, ma che stanza, di dove fa, per forza, qualcosa di, utile, per l'umanità, diciamo, ma anche no, ecco, pensiamo, a cosa serve, a noi, perché ci avviciniamo, alla, alla, alle pratiche, alle pratiche, ecco, alle attività manuali, per stare bene, per staccare, per curiosità, per il piacere di incontrare, la, le materie, i materiali, la, la curiosità che abbiamo, nei confronti degli attrezzi, le potenzialità degli attrezzi, come in cucina, per, ogni attività, c'è un attrezzo, lo speluchino, il coltello a seghetto, il coltello a spatola, quel tipo di forchetta, quel tipo di pinza, beh, ci sono un sacco di attrezzi, in cucina, che aiutano, eh, in determinate occasioni, insomma, la pinza, per le, le lumache, è diversa, dalla pinza, per andare a prendere, una fettina di dolce, o un pasticcino, appiccicoso, da un cabaret, e, e così come per i falegnami, a secondo di quello che devono fare, usano quella sega, piuttosto che quell'altra, quella pialla, quell'attrezzo per incidere, quell'attrezzo per scagliare, ecco, mi ha sempre affascinato, il mondo della falegnameria, così come, il mondo delle carpenterie, in generale, ecco, saper utilizzare, saper tagliare le mattonelle, le cavi, sa fare le case con le proprie, ma una casa con le mie mani, mi attraeva proprio da piccina, e, e poi tutti i vari cacciaviti, cacciavita stella, cacciavita taglio, e, la brugola così, e il pappagallo, insomma, mi affascinano, mi affascinano proprio gli strumenti, quindi anche lì, far di maglia, ci sono persone che, si bloccano, perché non provano il desiderio, di fare un berretto, di fare dei calzini, di fare dei golf, ecco, ma, provano semplicemente, ad esempio, il piacere di avere un eterno cantiere, a fianco alla propria poltrona, o divano, e, aver lì l'opportunità, di mettere le mani, su quel lavoro, e basta, prima o poi si finirà, amen, è bello, va bene, ce lo dobbiamo poter concedere, oppure, il bello di fare delle campionature, andare a scuriosare, ad esempio, come si possono avviare vari punti, avere solo quel tipo di curiosità, o come si tengono gli attrezzi, come vengono gestite le tensioni, avete visto, io poi manco me le ricordo tutti i nomi, come si preparano sul dito, la mia amica romena, al domino d'ora, aveva stedita, salsicciate, aveva chilometri di filo, di filo sul dito sinistro, quando lavorava a crociere, ma te fermi il sangue, poi tutti i movimenti, io non l'avrei mai fatto, lei lo faceva, lo faceva bene, con precisione, aveva una mano dell'uncinetto, spero tuttora, purtroppo ci siamo perdute di vista, ma, anche ad esempio, la tensione nel lavorare a maglia, come la otteneva? Con dei giri boboli di filo, tra la testa, quindi intorno al collo, la mano sinistra, insomma, approcci diversi, il far di maglia potrebbe consistere, anche esclusivamente nella ricerca di queste pratiche, di queste tecniche, perché bisogna far pressione sulle persone, affinché eseguano quello che piace a noi, o pensare che ci sia un modo di realizzare la maglia, o l'uncinetto, o il ricamo, ma assolutamente non è, ecco, e quindi la curiosità di approfondire quello che piace a noi, la ricerca dei materiali, la ricerca delle tradizioni, la ricerca di ricette tintorie, la ricerca dell'uso dei colori in quella zona, piuttosto che in quell'altra, ecco, questo può essere, la cosa importante è sapere ascoltare, ciò che siamo, ascoltarsi, avventurarsi, fare domande, ecco, fare quello che veramente ci piace, non fermarsi, fermarsi quando abbiamo dei timori, no, ecco, ma veramente dedicarsi con passione a quanto ci fa stare bene, ecco, allora, ora arrivo, vi faccio vedere, ecco, e questa è stata, andiamo un po' a provarlo, già ci siamo arrivate al punto sabbia di questo manuale, poi quando mi capiterà un altro manuale, andiamo a cercare, mi sono perso anche un punto, e ieri ne ho persi due qua, è quello che è una rognetta a sto punto, aspettate che mi fa tutto un intorcinamento, allora, questo punto che non è difficile da memorizzare, è una rognetta perché si rischia di perdersi le maglie, è un po' macchinosetto, passa dietro lì, attenzione, tira lì, con i filati troppo elastici, sia il risultato che adesso vi vado a vedere, con i filati non elastici, che questo non è un filato elastico, abbiamo un risultato completamente diverso, ecco, vi ho fatto anche un pezzettino di maglia rasata, proprio per farmi vedere come questo filato si manifesta, che cos'è questo filato, guardate che effetto pizzo che abbiamo nella parte sottostante, che ben rilievi, adesso ve lo oriento un po', che ben rilievo, sembra proprio due cose diverse, non ho cambiato il calibro, ho lavorato con i ferri del 2,5, guardate la maglia rasata, come è luminosa, come si muovono a goccine i punti, vediamo un po' se mettesse a fuoco, è odioso sto tablet, non so che problema possa mai avere, vediamo un po' se ci mette a fuoco, vabbè, comunque, ecco, abbiamo due centimetri di maglia rasata, e sotto quante sequenze del punto sabbia del manuale, ora ve le dico, una, due, tre, almeno cinque, ma è sì, oddio Lorenza, non ci vedo, è sì, di maglia, di punto sabbia, ecco, questo è un punto che potrei scegliere, per realizzare uno scialle, mi baste, forse, 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 col ferro del tre, lo potrei provare col ferro del tre, magari mi evidenzia ancora di più, questo è un filato croccante, è un filato non elastico, è un misto lino e seta fiammato, che cos'è un filato fiammato, è un filato che ha un andamento irregolare, cioè che non si manifesta in tutta la sua lunghezza, nel medesimo spessore, con la medesima tensio, torsione, quindi, per un passo molto lungo, come potete, ecco, forse in questo modo lo vedete, ecco, si manifesta torto, più o meno, uguale, più o meno, eh, perché vedi c'è anche una parte un po' più cicciottella, più o meno, spesso, nello stesso modo, poi a un certo punto, a un certo punto, già qua si manifesta un po', il filato appare più gonfio, il filino che torce il mazzetto di fibre, eccolo che è il lino, o, ecco, allenta la sua torsione, ma in quel caso, la tecnica è un po' come, è come un'arricciatura, il filo sottile arriccia il resto, e crea quell'effetto zigrinato, ecco, poi arriva di nuovo, una parte sottilissima, guardate come sta bello dritto, come si fanno a capire i filati, si fanno muovere, vedete come forma poche curve, come sta bello teso, ecco, poi torna, un movimento, più lasco, che è qua, se guardate lì, guardate il lato sinistro, notate che a sinistra è molto più sottile, eccolo qua, allora, in alcuni punti, la fiammatura è proprio tanto, tanto, tanto evidente, in questo filato, questi spessori, che cambiano, sono abbastanza regolari, eccola qua, la parte bella fiammata, che è lunga abbastanza, centimetri, guardate com'è sottile, è sottile qua, che com'è più cicciotta, qua, che ve lo giro, e vi rendete conto, che sembra quasi piatto, e cosa cambia, cambia la quantità di fibre, in questo punto, no, cambia la torsione, è più serrata, qui dove è sottile, sottile, dove anche il 2,5 è un calibro molto alto, e poi ecco, arriva la parte cicciotta, ma ci sono delle parti abbastanza più cicciotte, dove le fibre sono state torte, poco, e adesso non le vado a pescare, questo è un filato, che io ho adoperato, e amo tantissimo, adoperare a telaio, in trama e in ordito, dà un effetto, è una lavorazione tradizionale, quella dell'incrocio, tra ordito e trama, del medesimo filo fiammato, e si formano delle parti più rade, e si formano delle parti più cicciotte, più fitte, che coincidono per diversi centimetri, perché il filato è abbastanza regolare, poi anche lì, dipende dal tipo di, dal pettine, dalla riduzione, da quanti fili al centimetro, andremo poi noi a montare, ma lui è veramente bellissimo, bello, 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 bellissimo, e ce l'ho a mezzo, perché stiamo per lavorare, con questo genere di filati, durante la lezione di tessitura, e me lo sono già avvicinato, dobbiamo comparare, la cosa importante, ma in tutte le tecniche, è capire le potenzialità dei filati, capire la natura dei filati, non possiamo realizzare dei progetti, in maniera consapevole, e già le sorprese, quando parliamo di prototipi, del primo capo, pensato e realizzato, e le abbiamo, ecco, con alcuni filati, alcune costruzioni di più, con altri di meno, tipo ad esempio, nell'esecuzione di questo capo, che io ho realizzato a teli, e la parte posteriore, l'avevo messa in stand by, e mi stava bella lunga, aveva raggiunto una certa lunghezza, quella che mi serviva, ho montato, su fare i dritti, i davanti, che ho dovuto lavorare singolarmente, perché i filati messi insieme, perché sono diverse tipologie di filati, in questo capo, ecco, non potevo lavorare insieme, perché si aggrappavano, aderivano, venivano proprio attratte, come la polvere, su questo capo, ecco, e mi era impossibile, lavorare con fluidità, e anche cosa ho fatto, ho separato, i due pannelli, ho lavorato singolarmente, un davanti, e l'altro davanti, li ho affrancati, quando ho contato i giri, ho controllato i centimetri, ho affrancato, la parte alta delle spalle, con la tecnica dei tre ferri, fatto quello, che cosa è accaduto, che il mio pezzo, si è allargato, cioè i pezzi, i punti, non so come mai, hanno manifestato, un movimento strano, a un certo punto, come li ho tolti dai ferri, perché li ho affrancati, i pezzi, i pannelli, pum, il capo si è allargato, e si è accorciato, cosa che proprio, ma di tanti decimetri, ecco, e che ha dato una forma carina, curiosa, interessante, portabile, che però, non mi sta bene, e quindi lo regalo, va bene, quindi anche lì, i movimenti, le considerazioni, fai campioni, lo vedi, lo misuri, chiudi, ale, vai, è partito il trip, ha fatto i fatti suoi, soprattutto quando poi, ho aggiunto, il collo, sul davanti, che l'ho realizzato, partendo dalla parte posteriore, dove avevo lasciato in sospeso, le maglie, nella parte centrale, dello scollo, e ho ripreso, man mano, i punti lateralmente, sui due davanti, e che ha dato, questo tipo di scollo qua, non so se riuscite a vedere, la differenza, ecco, man mano, poi a un certo punto, ho fatto la ripresa lunga, su tutto il bordo, sono andata avanti, e poi ho chiuso, come vi ho già raccontato, adesso qui vediamo, ecco, il punto sabbia, quello che mi avete visto, che qua sembra proprio un pizzo, guardate nella parte sotto, con questo filato fiammato, un pezzo semplice, guardate, anche una sciarpina, anche una stola, un rettangolo, anche un rettangolo, oppure, una di queste costruzioni, di triangoli, che partono da poche maglie, e crescono a diagonali, ma lui verrebbe, per una meraviglia, proprio di gusto giapponese, nella sua semplicità, qua, che cos'è che fa? E fa il filato, e fa proprio la natura del filato, alla nostra tensione, questo tipo di risultato, con altri filati, non si potrà ottenere, e si mette proprio in evidenza, la parte fiammata, dove la seta, si manifesta in tutta la sua luminosità, anzi, ho intenzione di rifare alcuni scialli, chi li vuole, me lo dica, no, non ve li posso regalare, però li metterò in dotazione, li metterò a disposizione, perché voglio ampliare, voglio arricchire di manuali, la mia libreria, e quindi alcuni pezzi, li metterò lì all'asta, ma vabbè, ve l'ho accennato, eccolo qua, questo è il punto sabbia, lo stesso, che viene da quel manuale, guardate, con questo filato, che cos'è questo filato, lui è il tiglio, della Morefil, che è un filato, misto lana e acrilico, in un 70-30, 70 lana, 30 acrilico dichiarato, ormai dico così, perché vuole sorprese, mi sembra nella vita, comunque, ecco, è un filato, con il quale abbiamo realizzato, un progetto maglia, con Grazia, abbiamo lavorato, proprio su, un acquisto, fatto sul posto, senza un progetto, a monte, pensando a un capo, Ferraiz, e moderandosi, nell'acquisto, dei filati, è un problema, a volte capita, quanto ne compro, a caso, ma poi, con quello che ti avanza, cosa hai intenzione di farci? è, allora, cerchiate, abbiamo pensato, facendo una comparazione, con altre cose, che aveva già fatto, grazie a confilati diversi, ma, considerando il calibro, simile, ecco, abbiamo fatto, un acquisto così, senza rischiare, di avere, meno di quello, che avremo utilizzato, poi, e neanche, acquistando così, all'ingrosso, perché se, vabbè, pazienza, meglio che avanzi, sì, sempre meglio che avanzi, ma, quanto ne dovrà avanzare, in più, ecco, e questa è stata, una bella prova, è una lezione, sul posto è stata, bene, questo è, ti, ho infilato modesto, che può dare, le sue soddisfazioni, e può essere utilizzato, anche per calzini, abbastanza cicciottelli, insomma, calzini portabili, con le scarpe da trekking, ad esempio, o da, da passeggiata, in generale, scarpe sportive, oh, è un filato buffo, perché non è regolarissimo, anche se non vi sembra, abbastanza elastico, ho lavorato con il 4, e come lo vediamo, che è elastico, dall'allungamento, della maglia, accavallata, verso sinistra, perché la maglia, vedete, che si accavalla, verso destra, sì, però, è stranino, eh, vedete un po', è che, questa forma di goccina, che viene definita, in quel modo, sul, sul manuale, si manifesta, di più, la goccina, sul manuale, con il filato, che hanno utilizzato, rispetto all'inclinazione, delle maglie, accavallate, che non sono accavallate, sono incrociate, diciamo, si fa tutto senza smontare, le maglie dal ferro, si entra da dietro, si lavora quella, si lavora quell'altra, poi si butta giù insieme, non è, non è fluido, ecco, diciamo, allora, la fluidità, è data dal, dal vostro ritmo, no, ma non è, svelto, diciamo, è un, è un movimento, che si apprende, bisogna, chiedere attenzione, il filato, non elastico, è più ostile, è difficile, dilatare la maglia, quando si ha la necessità, di entrare, da dietro, insomma, senza far cadere niente, ha richiesto, molta attenzione, a parte il calibro, del ferro utilizzato, ma, vedete, che non sembra manco parente, in che cosa, non sembra parente, non sembra parente, le vediamo, le maglie, che si inclinano, ma forma, questo salto, questo effetto nodino, verso l'alto, il filato fiammato, è questo bel, traforo, che il filato elastico, non ci darà, non ce lo dà, infatti, sono belle, compatte le maglie, vedete, come sono belle, regolari, la parte di maglia, rasata, ecco, la natura, del filato, in questo caso, questa ricerca, questa, questa voglia, di provare, il qualcosa, che viene, è stato chiamato, in maniera diversa, che non avevo ancora provato, mi ha infuriosito, e mi ha proprio portato, verso la, fare una campionatura, con filate così diversi, quindi, non diamo mai, per scontato, il risultato, che vediamo, sui modulini, proposti dai nostri manuali, lanciamoci, osserviamo bene, il movimento, come si manifesta, il campione, con il filato scelto, anche se non ci vengono detti, non vengono indicati, spesso, i filati utilizzati, nei manuali, difficile, che capiti, mi è capitato, anche su una rivista, di uncinetto, dove c'era un filato, che mi piaceva tantissimo, ma non mi veniva detto, il filato, perché stava, veniva mostrata, solo la tecnica, e solo l'oggetto, anche lì, in quel caso, al di là, delle belle colorazioni, manifestate, in quel, in quell'oggetto, era interessante, il filato, purtroppo, la rivista, non, non, non mi diceva, ecco, io avrei, avrei cercato il filato, avrei voluto proprio quel filato, non tanto per quell'oggetto, ma per farmi un'altra cosa, era veramente bello, e vate alla pesca, oh, scusatemi, eh, l'ho fatto vedere una roba, beh, e, oh mamma, che mi cade lì, un progettino, allora, torniamo, al, punto, eccolo qua, oh, eccolo, lassù, riguardiamoci, come, eh, si manifesta, il punto, vedete, grazie alla torsione, particolare, di quel filato, vuoi anche al calibro, utilizzato, ecco, che noi, notiamo, l'andamento, a goccina, come la trecina, come, sì, è vero che notiamo, l'inclinazione, delle maglie, che in questo caso, vediamo molto di più, l'inclinazione, della maglia a sinistra, rispetto, l'inclinazione, della maglia a destra, e guardate, io sono stata rigorosa, beh, nel realizzarlo, ma noi vediamo, proprio, l'andamento, verso l'alto, della torsione, del filato, e qui, abbiamo, un risultato, che è diverso, dai tre, che avete, dai due, che avete visto, sui miei ferri, ecco, anche questo, fa parte, del piacere, del lavorare a maglia, c'è chi apprezza quello, io la appoggio, ecco, nel mio istigare al fare, c'è non tanto, il raggiungimento, di un livello, no, se adesso puoi fare, gli scalfi così, gli scalfi, non mi interessa, non interessa a me, figuriamoci, se spingo gli altri, a farlo, ma è portare, le persone, verso, un proprio approccio, un proprio modo, di provare il piacere, nei maneggiar filati, considerando anche, chi non magari, non ha mai fatto niente, considerando, anche le piccole cose, farlo d'uncinetto, far la maglia, può, può essere, assai gradevole, anche nella realizzazione, di piccole, piccolissime cose, a parte gli amigurumi, che sono un altro mondo, capi, oggetti per la casa, per l'arredamento, dei cuscini, delle lampade, dei tappeti, delle, dei contenitori, delle shopper, delle borse articolate, dei capi per bambini, solo calzini, solo scarpette, solo fiori, quello che vi pare, cioè, non dobbiamo giustificare, io, quello che cerco di, istigare, è la curiosità, verso i filati, perché loro, ci permettono tanto, a volte basta, cacchierano loro, non serve neanche, far chissà che, ecco, il piacere, di conoscere, di toccare, di guardare, e poi, di lasciarsi, a un proprio, di abbandonarsi, e di scoprire, un proprio mondo, nel fare, ora, vi auguro, una buona giornata,